Antonella Mosetti, ospite di Monica Setta A, storie di donne al bivio, ammette di avere un fidanzato, ma che non si tratta di Niccolò Bettarini. Il caso è scoppiato pochi giorni fa quando il settimanale, Diva e Donna, ha messo in copertina una foto dell'ex ragazza di, non è la Rai, insieme al figlio 25enne di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Un selfie, peraltro condiviso tra le Instagram stories della showgirl. La storia ha fatto parecchio scalpore visto che Antonella Mosetti, 17 anni fa, ebbe una storia con Stefano Bettarini, padre di Niccolò. Lo scoop risale a fine agosto. Sotto una foto in cui si lascia intendere un presunto flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, si legge, clamoroso. Mosetti prima il padre, ora il figlio, 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c'è il giovane Niccolò. Ieri con Stefano, oggi con il figlio. Ma la showgirl ha smentito dopo poche ore. Niccolò è un ragazzo bellissimo e intelligente, ma all'età di mia figlia. Smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico, così Antonella Mosetti all'indomani dell'uscita dello scoop. Adesso l'ex ragazza di, non è la Rai, ha deciso di spiegare meglio le cose in occasione dell'intervista rilasciata a Monica Setta, mettendo definitivamente a tacere i gossip su di lei e il giovane Niccolò Bettarini. Ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri, ha raccontato Niccolò, è un ragazzo bellissimo e intelligente, a chi non piacerebbe? Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c'è stato solo un bacio sulla guancia. Forse dieci anni fa sarebbe stato diverso, ma oggi ha 49 anni, pur amando gli uomini giovani, non mi potrei mai mettere con uno che ha l'età di mia figlia. Tra Antonella Mosetti e la famiglia Bettarini-Ventura c'è sempre stato un rapporto complicato. Simona Ventura, dopo aver scoperto il tradimento dell'ex marito proprio con la showgirl, fece la sua mossa. Mi cacciò da, quelli che il calcio, quando ha scoperto di noi, aveva svelato Antonella Mosetti. Antonella Mosetti parla del fidanzato, e, francese, ma è una storia difficile. Il divorzio tra Simona Ventura e Stefano Bettarini arrivò nel 2008. Simona Ventura si è risposata con Giovanni Terzi, mentre Stefano Bettarini è impegnato da tempo con Nicoletta Larini più giovane di lui di 21 anni. Antonella Mosetti invece, nel corso dell'intervista, ha rivelato di avere il cuore impegnato, è innamorata di un imprenditore francese, anche se è una, storia difficile. La showgirl ha confidato alla conduttrice che per quest'uomo sarebbe disposta anche ad andare via dall'Italia. La showgirl ha parlato anche della sua nuova attività sulla piattaforma OnlyFans. Ci ho messo la faccia, stanca di vedere che rubavano le mie foto dai profili social e le rimontavano guadagnandoci. Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti, ha precisato. Per un video P0RNO con me che facevo l'amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50.000 euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai.